Ciao a tutti, appassionati di My Home My Destiny. Nel prossimo episodio della vostra amata serie tv turca, vi porteremo in un vortice di emozioni, intrighi e rivelazioni scioccanti. Magdi e Nu metteranno alla prova la loro amicizia come mai prima d'ora, mentre Zeynep dovrà affrontare le conseguenze delle azioni di Magdi. E Kibrit? Sarà al centro di segreti e rivelazioni che potrebbero cambiare il corso della storia. Preparatevi, perché nulla sarà più come prima. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo ora per non perdere nessuna novità. Da una finestra della casa di Zeynep, Magdi osserva con intensità il gruppo che sta facendo colazione, con uno sguardo particolarmente fisso su Zeynep e Baris, seduti uno accanto all'altro. Quando tutti percepiscono la sua presenza incombente, Zeynep decide di aprire la porta, invitandolo ad unirsi a loro. Tuttavia, Magdi, con una tensione evidente, declina l'offerta, facendo un accenno velato alla presenza di Baris. Zeynep tenta di apportare una calma dialogante, ma lui è irremovibile. La sua intenzione principale è quella di portare via Gemile e Kibrit. Quasi immediatamente, le due raggiungono Magdi, cercando di placare l'atmosfera tesa, pronte a partire con lui. Quando le due donne raggiungono la porta, Zeynep cerca disperatamente di convincere Gemile a restare. In parte per proteggerla da una potenziale esplosione di Magdi dopo aver scoperto la sua relazione con lui. Sentendo l'aria carica, Baris propone di rinviare il loro incontro, ma sia Nermin che Sultan chiedono che si rimanga e si scusano per la turbolenza scaturita. Dopo la partenza di Magdi, il gruppo ritorna alla loro colazione. In un breve momento di intimità, Baris confida a Zeynep che vede una rinnovata vitalità, tra lei e Magdi post-divorzio, e sospetta che potrebbero riconciliarsi. Nel veicolo, Kibrit prova a alleggerire l'atmosfera cercando di conversare con Magdi, che però resta silenzioso. Le rivela che sia lei che Gemile avevano tentato di contattarlo durante la notte, ma il suo telefono era inaccessibile. Parallelamente, Gemile avvisa Nu che sta rientrando con Magdi. Nu, percependo l'urgenza, si dirige rapidamente verso casa Caraca, sperando di avere un chiarimento con il suo amico. All'interno della residenza Caraca, Benal appare visibilmente turbata per gli avvenimenti con Magdi, mentre Mujgan viene interrotta da un messaggio da Buran. Egli desidera vederla urgentemente. Rapidamente, Mujgan inventa una giustificazione e lascia la casa per incontrare l'uomo. Mentre sono ancora riuniti a casa di Zeynep, il discorso si sposta sul complicato caso legale di Nermin. Lei, purtroppo, aveva firmato una procura a Ekrem senza piena consapevolezza, permettendogli di prendere i fondi dell'azienda. Sebbene la situazione sembri intricata, Baris si mostra ottimista sul fatto di poter aiutare Nermin a risolvere in suo favore. Ma Nermin, ancora turbata dal comportamento recente di Magdi, si chiede se ci sia un modo legale per impedire a Magdi di intromettersi ulteriormente nella vita di Zeynep. Mentre Sakine, occupata a preparare il tè, esprime immediatamente la sua resistenza a tale idea, difendendo le azioni di Magdi, Nermin rilascia una rivelazione. Magdi sapeva da tempo del segreto di Ekrem riguardo all'amante e una figlia nascosta. E ha deliberatamente tenuto Zeynep all'oscuro, forse per una sorta di lealtà fra uomini. La sua scelta di rimanere in silenzio ha impedito a Zeynep e Nermin di agire prima che Ekrem le defraudasse della loro eredità legittima. Questa rivelazione lascia Zeynep senza parole. Anche Sakine, pur con le sue credenze tradizionali, è visibilmente scossa dalla notizia. Mujgan e Burhan si incontrano, ma l'apparente urgenza di quest'ultimo si svela essere piuttosto frivola. Desidera semplicemente un consiglio sul nome da dare al nuovo bar che intende aprire nell'ex officina di Magdi. Mujgan, già tesa, sente questo come un affronto e risponde con parole pungenti. Potrebbe essere che lui non l'abbia mai realmente amata, che l'abbia corteggiata soltanto come un altro modo per colpire Magdi, il suo avversario. Lei ha rinunciato a innumerevoli proposte di matrimonio, sempre fedele al suo cuore che batteva per Burhan. Ma lui, sembra dare priorità alla sua ruggine con Magdi piuttosto che al loro amore. Con la voce tremante, Mujgan pone Burhan di fronte a una decisione cruciale. Se continua con il suo piano di aprire il bar nell'ex officina di Magdi, sfidando apertamente il suo nemico, lei rinuncerà al loro amore, sarebbe pronta a accettare la proposta del primo uomo che si presenterà, chiudendo per sempre la porta al loro amore. Nella dimora di Zeynep, dopo aver affrontato la questione legale di Nermin, Baris ha l'opportunità di interagire più intimamente con Sakine. La donna è notevolmente colpita dalla sua cortesia e dalla sua assertività, che non sfoccia in arroganza. Ciò la porta a rivedere la sua opinione su di lui, e inizia a pensare con piacere che sua figlia lavori sotto un tale leader rispettabile. Emine e Sultan, discutendo in cucina, condividono un sentimento simile riguardo a Baris, esprimendo la loro approvazione. Questa ondata di apprezzamenti fa sorridere Zeynep, che scherzosamente commenta su quanto sarebbe bello avere un uomo del genere al suo fianco. Una volta tornati a casa, Magdy e Gemile si trovano faccia a faccia per la loro prima discussione seria. Gemile si sforza di comunicargli che né lei né no avevano intenzioni nascoste, desideravano solamente trovare il momento adatto per rivelargli il loro rapporto. Tuttavia, Magdy non sembra disposto ad ascoltare, e il dialogo tra i due viene interrotto dall'arrivo improvviso di No. Gemile si dirige verso le altre donne in casa, che osservano la conversazione tra Magdy e Nu attraverso una finestra. Nu conferma quanto detto da Gemile, ma Magdy non riesce a nascondere il suo senso di tradimento. Ritiene che Nu lo abbia tradito non solo nascondendogli la verità, ma anche perché non crede che ci sia un vero amore tra lui e Gemile. Secondo Magdy, Nu vuole sposare Gemile solo per mettere una pietra sopra alla sua delusione con Eminè. Tuttavia, Nu replica con vigore, sottolineando che Magdy non è esattamente in una posizione di superiorità morale. Nu sa che Magdy ha trascorso una notte con Nasli, pur affermando di amare ancora Zeynep. Questa rivelazione lascia le donne sbalordite, in particolare Kibrit e Benal, che vede le sue speranze di riconquistare Magdy svanire. L'atmosfera tra i due amici diventa sempre più tesa. Magdy dichiara la fine sia della loro amicizia che del loro sodalizio professionale. Nu, tuttavia, non intende essere messo nell'angolo. Accusa Magdy di cercare nuovamente un capro espiatorio per i suoi problemi, paragonandolo persino a Buran. Infine, Magdy lancia le chiavi del loro nuovo negozio a Nu, rifiutandosi di essere parte della loro recente impresa e ribadendo il suo scetticismo riguardo ai sentimenti di Nu verso Gemile. La tensione tra i due risuona in tutta la casa. Gemile, sopraffatta dalla situazione e preoccupata per il futuro incerto della sua famiglia, si rifugia in una stanza. Mujgan, però, non la lascia sola e la raggiunge immediatamente. Le tensioni tra le due sorelle riaffiorano, ma con un'energia diversa rispetto alle scaramucce precedenti. Mentre Gemile è visibilmente turbata dalla complessa situazione, Mujgan punta il dito contro di lei, sostenendo che sia alla base del conflitto tra Magdy e Nu. Gemile contrattacca affermando che, se loro avessero informato Magdy di tutto, lui non avrebbe reagito in quel modo. La colpa, sostiene, ricade su Mujgan e i suoi giochi di potere, che hanno lentamente eroso l'unità della loro famiglia. Gemile sottolinea come, nonostante Mujgan affermi di agire nell'interesse della famiglia, le sue azioni abbiano soltanto causato divisioni. Non solo Zeynep si è allontanata, ma anche altri membri della famiglia hanno preso le distanze. Mujgan, con i suoi schemi e manipolazioni, ha creato una rete di isolamento attorno a loro. L'aggravante, secondo Gemile, è che Mujgan avrebbe potuto sposarsi molte volte ma ha scelto di non farlo. Non perché non volesse abbandonare la famiglia, ma per la paura di perdere la sua casa e la sua posizione. Questa paura ha determinato molte delle sue decisioni, portando alla caotica situazione in cui si trovano. Gemile esprime il desiderio di sposarsi e di vivere la sua vita, ribadendo che sposarsi non significa abbandonare la famiglia, ma piuttosto lasciare la casa fisica. Proprio mentre pronuncia queste parole, Magdy, che aveva ascoltato di nascosto, interviene bruscamente. Dichiarando che Gemile è libera di fare le sue scelte, anche se crede che sposi un uomo che non l'ama veramente, lui si estranerà dalle loro decisioni. Pochi istanti dopo, Magdy si avvicina a Kibrit, cercando di tranquillizzarla. Sottolinea come, nonostante lui e Zeynep siano separati, la loro reciproca preoccupazione per la loro figlia non cambierà. Tuttavia, il tono della conversazione cambia rapidamente, quando inizia a fare domande precise su Baris, le abitudini lavorative di Zeynep. Quante volte Kibrit ha visto i due insieme, e l'orario in cui sono arrivati per colazione quella mattina. Ma Kibrit, dopo aver sentito della notte trascorsa tra Magdy e Nasli, non ha intenzione di tollerare le sue domande e lo sfida riguardo alla sua notte con Nasli. Di fronte a questa accusa, Magdy rimane senza parole. Kibrit, esasperata, si allontana senza dire altro. Priva di indugi, Kibrit compone il numero di Zeynep, informandola immediatamente sull'incontro con suo padre e rivelando la notte che Magdy e Nasli hanno condiviso. Zeynep, tuttavia, reagisce con un'indifferenza glaciale, consigliando a Kibrit di rimanere lontana da tali argomenti. La avverte di non fornire informazioni a Magdy e di astenersi dal cercare ulteriori dettagli sulla questione. Mentre Baris si afferma come figura centrale, la complessa relazione tra Zeynep e Magdy continua a tenerci con il fiato sospeso. Cosa nasconde realmente, il loro passato? E quali sorprese, ci riserva il futuro? Non perderti il prossimo video di My Home My Destiny. Assicurati di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella per non perdere nemmeno un minuto di questa avvincente storia. Grazie per il like e per averci seguito. Alla prossima!